Ebbene da quella risata mi sentii ferire all'improvviso come non mi sarei mai aspettato che potesse accadermi in quel momento. Ferire addentro in un punto vivo di me che non avrei saputo dire né che né dove fosse. Un punto vivo in me. S'era sentito ferire così addentro che perdetti il lume degli occhi. Quel punto vivo che s'era sentito ferire in me era Dio senza alcun dubbio. Dio che s'era sentito ferire in me. Luigi Pirandello Da uno Nessuno E centomila 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 E centomila